ci ha fatto fare questa scampagnata in mezzo ai colli di pistoia per farci giocare in questo campo di gomma riciclata molto bello come vi siete trovati voi sinceramente torneo è molto divertente è anche una cosa un po diversa diciamo che il campo è ottimo rispetto magari altri tornei che abbiamo fatto ci si trova bene il grip c'è sicuramente un buonissimo campo ecco rispetto al cemento eccetera eccetera io soprattutto che soffre con le mie ginocchi ne risento ovviamente molto 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 meno giocare su questa superficie ottimo a parte il discorso che lo puoi spostare è molto interessante e poi rispetto al cemento fa meno male alle piante dei piedi mi piace tanto perché è un po più elastico non si scivola io ci gioco bene e mi piace questo campo perché più che altro è innovativo giocare con gomme riciclabili è una bella cosa per l'ambiente